davvero dopo che hai fatto l'uccellino oggi ti viene in mente di fare il pesce esplodi ti prego esplodi in questo momento non ti voglio più vede ragazzi come va io sono feri niki io sono steve che sto giochiamo a testi blu a vero un giochino carinissimo in cui vestiremo i panni di due adorabili pesciolini e dovremo affrontare vari livelli quindi varie difficoltà vale intemperie nell'oceano e così via esattamente il nostro obiettivo sarà quello semplicemente di mangiare e crescere e diventare dei pesciolini sempre più grandi ovviamente steve ha il pesciolino più bello perché steve conosce la danza del pesce che feri niki non conosce e questa è la mia storiella perché si feri niki non fa parte di questa storia si sono azzardati di togliermi dalla storia e non so perché questo motivo quando addirittura un delfino e i delfini si sa che sono meglio dei pesci rossi hanno deciso di non mettermi prima di tutto un delfino in un acquario così piccolo è già impossibile questo è quello che credi tu perché io ci sto ecco a me adesso te lo dimostro vai abbia il coraggio di cliccare su a colpino vai 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 guardami 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 sei un girino non sei un delfino non mi muovere il mio ho scoperto il tasto per muovere anche il tuo disgraziato mi mangia tutta quindi smettila che se no ti faccio sbagliare tutto il tempo non ci sei nella storia quindi il cibo è solo per me a te ne sono volendo del cibo lasciami in pace vattene morirai di fame qua dentro hai capito ti sposto perché andiamo super veloci aiuto perché adesso siamo giganteschi ok no aspetta arrivo non mi abbandonare qui ti prego ah eccomi tutto a posto andiamo ma non volevo andarmi eccomi tutto a posto mi piaceva avevo il cibo gratis ma poverino poi ci avevo appena preso abbiamo abbandonato la nostra cosa sì e stiamo scappando stile alla ricerca di Nemo è una crudeltà incredibile lo so lo so io non me ne volevo andare dove finiremo adesso nell'oceano ovviamente che brutti questi pesci allora possiamo mangiare questi piccoli giustamente un po' come su sport queste aragoste sono davvero buone guarda te lo dico fresche fresche appena uscite dal mare appena uscite dalla loro tana meglio di così qua che puoi pretendere che buono allora quando posso arrivare a mangiare i pesci io da delfino dovrei già essere finito ah siamo finito ok ok bravi bravi due stelline non è male non è male per il primo livello dovevi dare cinque ma che cinque ma si mettele allora noi ne meritavamo cinque perché siamo in due ok dobbiamo hai ragione hai ragione io ho sempre ragione quando Mike io non ho ragione dai ti voglio seria perché dobbiamo mangiare le paperelle come fai a sapere che dobbiamo ah c'è scritto da chi esatto vedi no quindi allora dimmi sono quelle di gomma cosa ci fanno nell'oceano le ha portate espi sarà bellissima le ha mese lui e ce le ha lasciate qua quindi questo livello l'ha fatto espi giochi si ci sta nutriendo per mangiare capito per mangiare la sua paperella si avevi detto che devono diventare dei pesciolini forti e giganteschi ok ha senso allora però vabbè il gioco ci sta spiegando una cosa mangeremo lo stesso la sua paperella ok il gioco ci sta spiegando questo noi partiamo da questi cosettini piccoli ovviamente poi arriviamo ai pesci quando vediamo questa specie di segnale così sulle paperelle le possiamo mangiare premimi spazio per favore ok vai ecco così posso andare veloce pure io ti ho rubato tutto il cibo lo so perché io non li potevo ancora mai ah io posso mangiare le paperelle no dai a quanto pare potevamo mangiare prima le paperelle e poi i pesci oh ma che buone queste paperelle vieni qua che io voglio no io non le posso mangiare il mio cibo preferito è la gomma perché i delfini non possono mangiare le paperelle perché sei troppo piccola non è questione dei delfini Steph ti ha distrutto ti ha disintegrato basta non gioco più no non gioco più ma siamo una squadra no allora metto il single player si ok va bene aspetta aspetta main menu addio ok play adesso sono da solo guardate no non sei da solo rimettimi immediatamente traditore fallito traditore hai detto che non giochi più non provare a muovermi perdi perdi senza fare nikki perdi certo mi muovi il mio ti faccio uccidere su questi ti faccio andare su questi così muori guarda ho messo pausa ok non sei per niente simpatica ok moltissimo invece vai pronta via ok allora se tu mi lasciassi un po' di cibo non avremmo problemi capito invece sei un egoista tu pensi che questa sia una collaborazione tra me e te certo che è una collaborazione ma i pesci rossi e i delfini non collaborano certo che collaborano i delfini mangiano i pesci rossi quindi siamo nemici ma dove te lo sei inventato non è vero è il cibo preferito dei delfini no sapevi oh posso mangiarle adesso a chi è che fate male a chi è che stavate picchiando lasciami quelli piccoli però ok io mangio le aragoste tu mangia quelli piccoli vai ok aragoste chi è che volevate mangiare fatemi capire adesso con chi ce l'avevate tre stelline di nuovo bravissimo bravissimo vai dobbiamo mangiare un pochettino e poi saltare e andare nelle altre parti pronta dobbiamo mangiare i gabbiani ok davvero ma secondo me si ah si guarda posso mangiarli aspetta no l'ho mancato ma un pesce rosso che mangia gabbiani aspetta guarda ma li puoi già mangiare si perchè ho mangiato un pochettino devi andare a destra e mangiare un po' di pesciolini vado 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 dopodichè potrei mangiare i gabbiani sei contenta ma che cosa no vai vai c'è una foca aia attenta la foca ti attacca scappa andiamo da questa allora prendo un salto bello vieni mangia gabbiani mangia gabbiano buono gabbiano mangia non ci riesco ma che cosa brutta perchè dobbiamo mangiare che non c'entrano niente non fanno parte della flore della fauna marina scusami di solito i gabbiani mangiano i pesci e noi ci stiamo vendicando ok fatto zero stellina però è stato tristis cioè io non li volevo ma era un po' guarda ho mangiato anche la foca io visto che c'era ma io non volevo mangiare neanche la foca poveri è un po' macabro sto gioco sembrava così carino all'inizio ma queste cose non mi stanno mi stanno un po' distruendo capito questa è la vendetta dei pesci ok tutto quello che prima ti mangiava adesso lo mangi non penso che funzioni così vabbè vai sì allora andiamo avanti anche se lì il zero stelline mi prende un po' male pazienza pazienza allora mangiamo mangiamo vuoi andare più veloce sì grazie ok vai sì posso mangiare i gabbiani guardami oh mamma mia che cosa macabra oh mamma mia tu mangiare cose piccole quando divento più grande pure io tu mi rubi sempre tutto il cibo adesso li dovrei poter mangiare però sì oh mamma mia che cosa brutta attenta alle foche aia aia ci sono le canoe perché ci sono le canoe signorina noi dobbiamo mangiare i gabbiani se ne deve andare perché altrimenti rischiamo di pappare pure lei posso mangiare le foche vieni di sotto vieni 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 guarda oh finalmente ma ci sono anche i tiri io esco dal gioco ho mangiato un subacquo guarda le canoe guarda cosa sta diventando questo gioco di preciso scusami bene nia no no sono un attimino senza parole cioè sto riflettendo allora innanzitutto perché riesco a mangiarmi dei pesci spada giganti guarda hai appena mangiato anche tu non volevo ho sbagliato mi dispiace anche questi mi dispiace mi dispiace no è terribile perché ci stiamo comunque vedi aveva senso ci stiamo mangiando tutto quello che te l'ho detto gli esseri umani si permettono di mangiare i pesci noi mangiamo gli esseri umani ah è terribile ma perché dobbiamo mangiare anche esseri umani uh anche l'orca ok si vabbè ma quando mai riesci a mangiarti un orca allora è un pochettino disturbato soprattutto come hai fatto a mangiarti questi cosi di segnalazione che sono in ferro cioè pure quelli un po' mi fanno male i denti eh me ne sono accorta erano buoni allora un po' duri da masticare ho mangiato 100 pesci tondi stelle marine conchiglie lattine gabbiani salvagenti eeeh cosa sono? foche eeeh quelli che vanno sott'acqua non mi viene il nome i subacquei i subacquei si chiamano non lo so si quelli che fanno subacque una tizia poveraccia che era in canoa ne abbiamo mangiato 15 i pesci e spada quelle in canoa 15 5 cose in ferro e un'orca wow è stato uno spuntino davvero buono è stato uno spuntino molto strano te lo dico ma non è vero guarda partiamo subito con le cose in metallo stavolta eh però lasciami che buono oh perché sono tutte di colori diversi adesso ci sono quelle verdi con le rosse perché vedi ci sono quelle dove c'è uno da solo quelle dove invece sono due eccetera eccetera ah ok quindi le gialle mi sa che le possiamo già mangiare si buonissime però lasciami un po' di cibo se non è voi non c'è cibo per tutti qua guarda me l'hai rubato all'ultimo guardami guardami sono un'arma letale altro che gli squali sei felice di quello che hai appena fatto sei felice moltissimo cioè io non so perché abbiamo cioè messo l'opzione 2 players e tanto non non devi giocare con me cioè adesso io cambio il nome del canale e mi chiamo solo Ferri Niki Regna finito e tu te ne fai non siamo più 2 players qui eh facciamo il canale Ferri Niki Regna e Steph il Magnifico e facciamo le guerre Steph muore no Steph non muore prima di tutto se non si chiama Steph muore dai pensa che figo Ferri Niki Regna e Steph il Magnifico si scontrano no? no non è una bella idea perché te l'ho detta non saremo mai più 2 players quindi non ci saranno neanche più guerre con noi visto che quando possiamo giocare in due e finalmente io non mi limito a guardare non mi fai fare nulla cioè sei una persona terribile allora ti spiego no non voglio sentire le tue spiegazioni mi da insulso se io ti condivido il cibo ok nessuno di due diventa abbastanza grande da mangiare la cosa dopo e non facciamo tre stelline si ma si condividono vuoi le tre stelline? no voglio giocare ok disgraziato allora adesso adesso dato che tu vuoi giocare vai mangia ma cosa devo fare? mangiare ah devo mangiare stai dai no gioca anche tu è fatto per essere fatto in due non ce la faccio ok io mangio con calma mangio lento va bene? ok devo mandare le conchiglie ho un round rilassato hai detto tu che comunque sei un po' offesa dove sono le conchiglie? eccole quindi adesso io ti faccio mangiare tutto quello che vuoi si ma sono ancora triste ti stai divertendo adesso? si moltissimo guarda sono davvero buone queste conchiglie meno male croccanti al punto giusto mi devi premere la barra spaziatrice che se no non posso saltare ah scusami vai e sono lentissima ok ti stai divertendo? ma il livello più brutto mi hai lasciato da sola guarda perché è noiosissimo devo mangiare solo sai perché è noioso? perché? perché è fatto con calma ma non è vero si perché qua è una gara tre stelline è la cosa importante se tu fai le cose con calma abbiamo già finito? si beh era un round veloce era un round bruttissimo adesso hai una stellina sulla coscienza ma stai zitto sei felice? sei felice? si molto ok vai 20 secondi veloce ma per fare cosa? per mangiare ah da sotto da sotto si 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 a terra a terra a terra a terra fin quando non diventi abbastanza grande scusi ho buttato giù un pescatore da mangiare e tutto i gabbiani i gabbiani adesso ok tu pensai ai gabbiani io mangio a terra secchiello pesci è difficilissimo prendere i gabbiani lo so lo so lo so mica è semplice ok sto mangiando poi tu cosa ti sei mangiato? non sto guardando il tuo schermo cosa ti sei mangiato? i pescatori perché pure i pescatori? perché? poveri guardalo due è crudele questo gioco è davvero crudele guarda l'ho buttato giù dal molo l'ho mangiato io direi di formarci così per questo video è un giochino davvero strano è particolare si 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 però è simpatico mi piace questa cosa di essere un pesciolino non delfino che vanno in giro per il mondo a mangiare macchine e ciambelline salvagenti subacque canoe cose da tutti i giorni insomma certo è la cosa più normale e probabile comunque direi di formarci così sondaggino commenti like super facile sapere se vi piace il gioco e soprattutto se vorreste vedere altri episodi perché come vedete potrebbero uscire altri 2-3 episodi secondo me in questo gioco e voglio che ci fate sapere voi se appunto lo volete o se vi basta un episodio single su questo gioco noi decideremo in base ai risultati del video e vedremo se continuarlo beh ragazzi se non è così se giusti ci facciate un bel like questa è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri video ciao alla prossima ciao ciao ciao